Cari amiche e cari amici, una notizia tratta dal Tempo.it del 6 ottobre 2020. Titolo, Ruini, clamoroso attacco a Bergoglio e una carezza a Giorgia Meloni. Camillo Ruini torna a parlare e in una lunga intervista al Corriere non si risparmia le bordate a Papa Francesco. Stando al più noto e più influente cardinale italiano, non bisogna considerare qualsiasi critica al Pontefice come un attacco alla Chiesa. Di fatto, Ruini mette il cappello sul cosiddetto partito degli scontenti di Bergoglio. Non solo. Ad Aldo Cazzullo, che lo intervista, il cardinale spiega come alcuni dei valori storici della Chiesa, a cominciare dalla difesa della vita e della famiglia, fanno assai meno parte di prima dell'agenda politica del Vaticano, ma non sono spariti e nemmeno lo potrebbero. Nel contesto dell'Occidente contemporaneo sono inevitabilmente oggetto di dibattito. È di pochi giorni fa una buona notizia, almeno dal mio punto di vista. La Santa Sede ha ribadito con forza il rifiuto all'eutanasia. Poi Ruini ammette l'esistenza di un movimento internazionale contro Bergoglio e dice Poi, il cardinale boccia un partito italiano-cattolico a favore di Giuseppe Conte e dice Non vedo uno spazio del genere. I cattolici devono puntare sui contenuti dell'azione politica individuati anche alla luce di una visione cristiana, dell'uomo e della società, e devono collaborare con chi, cattolico o no, condivide tali contenuti. Oggi, purtroppo, in larga misura, manca proprio l'attenzione a una visione cristiana, riserva, a sorpresa, una carezza a Giorgia Meloni e virgolettato Non mi sono pentito affatto di aver spiegato un dialogo con Salvini bisogna dialogare a Salvini e a Giorgia Meloni che adesso, meritatamente, è sulla carezza dell'onda vorrei dire che se vogliono fare il bene del Paese e arrivare al Governo, devono sciogliere il nodo dei loro rapporti con le forze che sono stabilmente alla guida dell'Unione Europea. Questo è l'articolo del tempo ma io dico pure, non è che devono sciogliere solamente il nodo con le forze europee devono pure sciogliere il nodo con Bergoglio che cosa vogliono fare questo qui anche perché Ruini, sì, fa queste dichiarazioni ma poi nei fatti Bergoglio ha ricevuto tra gli allori Casarini il violento protagonista del G8 è uno dei protagonisti in assoluto dei centri sociali imparentato tra l'altro con Toni Negri il famoso terrorista legato alle Brigate Rosse in ogni caso al terrorismo degli anni 70 Bergoglio ha ricevuto Emma Bonino l'ha definita una tra le grandi donne del 900 ma Bonino ha fatto lei personalmente decine e decine di aborti ed è stata tra i protagonisti dell'aborto quindi adesso non lo so, steutanasia è un contentino tutto contribuisce alla confusione totale tutto contribuisce alla confusione totale poi nei fatti Bergoglio ha fatto un'enciclica contro Meloni e Salvini certo non è che ha nominato Meloni e Salvini però attaccando il soveranismo nei fatti attaccando l'idea di nazione e appellandosi a forze sovranazionali ecco qui è un'enciclica che sembra dettata da Soros e nuovo ordine mondiale cattolici dovete fare una scelta disertate le chiese disertate le chiese tanto questo non è il Papa è un usurpatore quindi stare in comunione con Papa Francesco addetta di Don Minutella di Fra Alexis e anche di altri illustri teologi non è valido comprese le nomine e le scomuniche teoricamente non sono valide poi ormai il Vaticano è un concentrato di massoneria e lobby gay quindi va bene tutto va bene tutto chi più ne ha ne metta allora cari amici e cari amici un caro saluto a tutti da Marco Cosmo non è un caro saluto a tutti da non è un caro saluto a tutti da